...de i casi la strada, anche loro per la prima volta in piazza a portare un grandissimo messaggio il Sim Carabinieri con il segretario generale Antonio Serpi. Un saluto a tutti quanti, un saluto ai miei segretari che sono venuti da tutta l'Italia, sono battiti stanotte, un abbraccio, veramente grazie. Siamo qua per sostenere il disegno di legge sulle garanzie funzionali, 293 aggressioni al giorno, al mese, non sono più tollerabili. Siamo qua per chiedere le vodka, siamo qua per chiedere le armi meno che letali, meno che letali. Stiamo qua a chiedere che ci diano la possibilità di non utilizzare l'arma letale, perché è un paradosso tutto italiano. Ti vietano l'uso del taser, ma ti autorizzano l'uso dell'arma. Ci troviamo costretti. Sentivo stamattina i fatti di Savona, dove due colleghi della polizia sono stati aggrediti perché hanno chiesto semplicemente di indossare le mascherine. Sono stati presi a calci da 7, 8, 9, 10 ragazzi. C'è un'inversione, così, sociale, di aggressioni alle forze di polizia. Bisogna fermarla, bisogna tornare indietro. Noi chiediamo, in sintesi, che ci venga dato il rispetto, la dignità per operare per strada, perché poi, con gli atti dovuti, noi ce ne andiamo a casa. Con gli atti dovuti, noi stiamo in ufficio, con gli atti dovuti che le allegano in un ufficio e di fatto pervi tutte quelle indenità accessorie. Oltre il danno, la beffa, perché poi si deve provvedere di tasca propria a sborsare le somme per i legali, per difenderti, per un atto dovuto. Io adesso la chiudiamo perché siamo andati oltre. Ringrazio i segretari del SIN, sindacato italiano militari carabinieri, primo sindacato legalmente autorizzato. E questo per noi è il battesimo della piazza, con la speranza che ci permettano di esprimere il nostro pensiero. È un'espressione di pensiero, una condivisione di progetti, con l'amico Tonelli, con l'amico Stefano Paoloni, con l'amico Iacoi, con la Conapo. Siamo tutti sulla stessa piazza, per dire basta alle aggressioni. Un saluto a tutti quanti. È un saluto alla polizia penitenziaria. Abbiamo qua il decano, l'amico Caffece, scusa. Abbiamo il decano dei decani, il decano dei sindacati. La chiudo con un caloroso saluto è il nostro motto del SIN carabinieri. Mai più soli! Grande, grande, grandissimo Antonio. Grazie a tutti.